In questi ultimi anni c'è una rinnovata attenzione per il cibo. È vero che di cibo parlava già Ippocrate, ma adesso che viene Natale le tradizioni di famiglia si ripetono in giro per conoscere i piatti natalizi della nostra città. Già deciso? Gli annolini in brodo, col brodo di terza, il cappone, i nostri salumi, una bottiglia di gutturnio fermo-frezzante e non puoi sbagliare. Carmen Artocchini, una delle interpreti più importanti dell'enogastronomia piacentina, consiglia il cappone, ma non se ne trovano. Eh, bisogna avere il fornitore bravo che te li tiene da parte. A tavola, a Natale? Il tradizionale, cioè gli annolini in brodo di terza, possibilmente, cappone cucinato alla carpanetese. Polenta, cotechino, lenticchie. De gustibus. Ricette sfiziose, piatti pirotecnici sorprendenti, non se ne parla proprio. Noi mangiamo cose tradizionali, gli annolini, il cotechino, quelle cose lì. Annolini fatti come si facevano in montagna, tradizione dei nonni e quindi asciutti. Abbiamo cambiato la tradizione né capponi né altro, ma l'occa e il rosto, e poi tradizionali dolci natalizi. È un fiasco di ghianti. Direi proprio di no, direi assolutamente vini piacentini. E chi non beve piacentino è il confino a Cremona. Il menù è più o meno lo stesso. Tovaglia rossa, possibilmente, antipasti. Anolini, rigorosamente, piacentini. Lessi, salsine, dolci. In tavolo per Natale, Anolini? Certamente, Anolini. Dal vincitore della Supera d'Argento un consiglio. Ti beviamo vai, sempre e comunque. Magari, un po' laidi con un bel sorbio. Il pranzo di Natale è una complicata espressione algebrica, con addizioni e sottrazioni di gusto, di tradizioni, di inclinazioni. Ci permettiamo di consigliare un pranzo semplice, di non sprecare il cibo. C'è gente cui serve una mano. Gianni Rodari ha scritto Se ci diamo una mano, i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno.